Terzo anno delle feste del cambiamento, ogni anno facciamo dei focus, ogni anno prendiamo dei temi specifici e quest'anno abbiamo preso per la giornata del 6 maggio a Trieste i mestieri del futuro, i mestieri che daranno le professioni nuove, professioni che oggi non sappiamo neanche quali ancora, ne abbiamo contezza di parecchie, oltre le 100 professioni nuove, ma non abbiamo ancora contezza di quelle che daranno, perciò si sarà un dibattito a livello politico, nazionale, con il nostro ministro Giorgetti che ha dato disponibilità, con la Maria Bellucci, vice ministro del lavoro, e poi tutti i tecnici italiani, regionali e stranieri che spiegheranno, andremo a dibattere perché facciamo questo, perché in pratica dovremo, da questo risultato, da questo feste del cambiamento, da questa giornata, serviranno da indicazione alla politica per creare nuove leggi e nuove occasioni, ma soprattutto per il mondo dell'istruzione, dell'università, scuole e la politica in genere, la formazione della politica, per forse cambiare metodo di insegnamento e andare verso i nuovi mestieri, perché ci serviranno avvocati che difendono le aziende dall'intelligenza artificiale, ci serviranno professioni che gestiscono gli avatar e via dicendo, c'è un mondo che si apre per i giovani veramente interessante. Ecco, noi speriamo che da questo venga fuori un po' delle linee guida e delle indicazioni per andare verso questo mondo che ormai l'intelligenza artificiale l'ha fatta padrone. A seconda giornata a Gorizia, invece, martedì 7 e dalle 14 in poi, avremo la geopolitica dell'algoritmo, cioè come gli algoritmi influiscono nella politica. E questo è un altro tema, l'abbiamo visto ormai più volte, che gli algoritmi influenzano la nostra vita, perché basta che noi andiamo sul nostro cellulare qualsiasi, ci informiamo di un viaggio o di un albergo e Bruno arrivano lì i messaggi. Ecco, questi sono gli algoritmi che vanno a persona, che individuano e poi ti inondano di messaggi, ma questi servono anche per influenzare la politica, influenzare le elezioni, influenzare scelte industriali. C'è un mondo dietro che ancora non conosciamo, per cui anche qui i lustri relatori spiegheranno un po'. E anche qui ci serviranno le nuove professioni. Come ci difenderemo da tutto questo? Come potremo cavalcare tutto questo? Come potremo usarlo nelle nostre aziende? E per cui pensiamo che il cambiamento, con due temi di questo tipo, possono dare delle indicazioni alla politica e al mondo delle imprese, soprattutto ai giovani, nella scelta del loro futuro.